Gentile visitatore, per qualche istante lascia i problemi, la fretta e il rumore fuori da questo luogo e prepara il tuo cuore allo stupore. La meraviglia apre il cuore, innalza l'anima e soprattutto spalanca gli occhi alla bellezza. La bellezza di cui il Padre ci circonda e riveste perché Dio non è potenza ma amore. La bellezza di cui il Padre ci circonda, 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 il Padre ci circonda, la bellezza di cui il Padre ci circonda, la bellezza di cui il Padre ci circonda, per la sua incarnazione e la bellezza di cui il Padre ci circonda, 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 e il Padre ci circonda, il Padre ci circonda, Con la neve Dio arrotonda ogni asperità. E ci dona la speranza che tutto sia possibile. Che tutto possa tornare ad essere bello. Nella neve sembra di sentire le risa di Dio. A noi non resta che stupirci, allargare le braccia e tornare a ridere con Lui come bambini. A noi non resta che stupirci, allargare le braccia e tornare a ridere con Lui come bambini. A noi non resta che stupirci, allargare le braccia e tornare a ridere con Lui come bambini.